pippi calzelunghe pippi si trasferisce a villa villacolle c'era alla periferia della minuscola città un vecchio giardino in rovina nel giardino c'era una vecchia casa e nella casa abitava pippi calzelunghe aveva nove anni e abitava lì tutta sola non aveva né mamma né papà e in effetti era una gran bella cosa perché così nessuno poteva dirle di andare a dormire proprio quando si stava divertendo di più o propinarle l'olio di fegato di merluzzo quando invece lei avrebbe desiderato delle caramelle c'era stato veramente un tempo in cui pippi aveva un papà al quale voleva un monte di bene e sì naturalmente anche una mamma ma erano passati così tanti anni che di lei non riusciva a ricordarsi la mamma infatti era morta quando pippi era una bimba piccina piccina che stava nella culla e strillava in maniera così raccapricciante che nessuno resisteva a rimanerle vicino pippi era convinta che la sua mamma se ne stesse ora seduta in cielo e guardasse la sua bambina attraverso un piccolo foro e così aveva preso l'abitudine di fare un cenno di saluto verso l'alto dicendo non stare in pensiero per me io me la cavo sempre ma suo padre pippi non se l'era scordato era capitano di marina e navigava per il vasto mare pippi gli era sempre stato accanto sulla sua nave finché un giorno durante un temporale lui era volato via ed era scomparso pippi però era sicurissima che una volta o l'altra il suo papà sarebbe ritornato il pensiero che potesse essere annegato non la sfiorava nemmeno era invece convinta che le onde lo avessero sospinto a terra e precisamente in un'isola popolata di indigeni lì suo padre era diventato il loro re e per tutto il giorno camminava su e giù con una corona d'oro sulla testa un angelo per mamma e un re di una tribù dei mari del sud per papà non capita davvero a tutti i bambini di avere dei genitori tanto distinti diceva pippi soddisfatta e appena il mio papà si sarà costruito una barca mi verrà a prendere e così diventerò la principessa di una tribù dei mari del sud urrà allora sì che ci divertiremo era stato proprio il padre di pippi a comperare quella vecchia casa in mezzo al giardino molti anni prima contava di andarci a vivere con pippi quando fosse diventato troppo vecchio per continuare a navigare ma poi gli era capitata quella stupida cosa di volare in mare e pippi in attesa di vederlo ricomparire decise di stabilirsi a villa villa colle quello era infatti il nome della casa che ammobiliata e perfettamente sistemata non attendeva che il suo arrivo era una bella sera d'estate quando pippi disse addio all'equipaggio della nave di suo padre i marinai le volevano un gran bene e un gran bene voleva loro pippi addio ragazzi disse pippi e li baciò a uno a uno in fronte non state in pensiero per me io me la cavo sempre dalla nave prese per sé due cose una scimmietta che si chiamava signor nilson regalateli dal suo papà e una grossa valigia piena di monete d'oro dal ponte della nave i marinai seguirono pippi con lo sguardo finché la videro scomparire lei se ne andò a diritta senza voltarsi indietro col signor nilson su una spalla e la valigia in mano che bambina straordinaria disse uno dei marinai e si asciugò una lacrima quando pippi scomparve gli aveva ragione pippi era davvero una bambina straordinaria la cosa più eccezionale in lei era la sua forza era così tremendamente forte che in tutto il mondo non esisteva un poliziotto che fosse forte quanto lei poteva benissimo sollevare un cavallo se lo voleva e lei voleva aveva un cavallo tutto suo comperato con una delle sue tante monete d'oro il giorno stesso del suo arrivo a villa villa colle aveva tanto sognato di averne uno tutto per sé e ora il cavallo abitava in veranda e quando pippi desiderava bersi il caffè pomeridiano semplicemente lo sollevava e lo depositava in giardino vicino a villa villa colle c'era un altro giardino e un'altra casa in quella casa abitavano un papà e una mamma con i loro due graziosi bambini un maschio e una femmina il ragazzo si chiamava tommy e la bambina annica erano due bambini molto gentili ben educati e obbedienti mai che tommy si mangiasse le unghie o si sognasse di non fare quello che la mamma gli chiedeva quanto ad annica non si metteva a strillare quando non riusciva ad averla vinta e se ne andava sempre in giro tutta pulitina con dei vestitini di cotone perfettamente stirati che stava bene attenta a non sporcare non che tommy e annica non giocassero bene insieme nel loro giardino ma spesso avevano provato il desiderio di un compagno di giochi e quando ancora pippi navigava per i mari col suo papà a volte aggrappati allo steccato si dicevano è assurdo che nessuno si trasferisca in quella casa qualcuno dovrebbe andarci ad abitare qualcuno con dei bambini quando quella bella sera d'estate pippi varcò la soglia di villa villacolle tommy e annica non si trovavano in casa erano andati a passare una settimana dalla nonna perciò non sospettavano nemmeno lontanamente che qualcuno fosse venuto a vivere nella villa accanto e mentre il primo giorno del loro ritorno a casa se ne stavano come al solito a fissare tristemente la strada attraverso le sbarre del cancello non immaginavano che ci fosse così vicino un nuovo compagno di giochi mentre pensavano a cosa fare e se c'era speranza di divertirsi quel giorno o se sarebbe stata una di quelle giornate disgraziate in cui non si inventa nulla proprio allora il cancello di villa villacolle si aprì e ne uscì una ragazzina era la più curiosa bambina che mai tommy e annica avessero visto era pippi calze lunghe che iniziava la sua passeggiata mattutina i suoi capelli color carota erano stretti in due trecce ritte in fuori il naso pareva una patatina ed era tutto spruzzato di lentiggini e sotto il naso si apriva una bocca decisamente grande con due file di denti bianchissimi e forti il suo vestito era molto originale pippi se l'era cucito da sola veramente la sua idea sarebbe stata di farlo blu ma poi siccome la stoffa non le bastava ci aveva applicato quella delle toppe rosse un paio di calze lunghe una marrone l'altra nera le coprivano le gambe magre per non parlare delle sue scarpe nere lunghe esattamente il doppio dei piedi gliele aveva comperate il suo papà nel sud america grandi così perché i piedi di pippi potessero crescervi quanto volevano e lei non ne aveva mai indossate altre ma ciò che fece proprio sbalordire tommy e annica fu la scimmia che sedeva tranquillamente su una spalla della bambina sconosciuta era una scimmietta da circo che indossava pantaloni blu e una giacca gialla e portava in testa una paglietta bianca imperturbabile pippi passeggiava lungo la strada camminava con un piede sul marciapiede e l'altro nel rigagnolo finché fu possibile tommy e annica la seguirono con lo sguardo ed ecco dopo un attimo la videro ritornare camminando all'indietro così non aveva bisogno di voltarsi per arrivare a casa giunta davanti al cancello di tommy e annica pippi si fermò un lungo sguardo corse tra i bambini in silenzio infine tommy disse perché cammini all'indietro perché cammino all'indietro esclamò pippi forse non viviamo in un paese libero ognuno non può camminare come più gli piace a ogni modo sappi che in egitto tutti camminano così e nessuno ci trova nulla di strano e tu come lo sai chiese tommy tanto non sei mai stata in egitto se sono stata in egitto ma certo puoi giurarci dappertutto sono stata nel globo terrestre e ne ho viste di assai più buffe che gente che cammina all'indietro mi domando che cosa avresti detto allora se mi fossi messa a camminare sulle mani come si usa nell'india orientale questa è una bugia bella e buona osservò tommy pippi ci pensò su un secondo hai ragione ho proprio detto una bugia ammise avvilita mentire è bruttissimo aggiunse annica che solo ora osava aprir bocca sì mentire è proprio orribile convenne pippi sempre più avvilita ma capisci io ogni tanto me lo dimentico come si può pretendere che una povera bambina piccina con un angelo per mamma e un re di una tribù dei mari del sud per papà e che non ha fatto altro per tutta la vita che navigare i mari possa dire sempre la verità del resto e mentre diceva questo il visino punteggiato di lentiggini le si illuminò tutto voglio che sappiate che nel congo belga non esiste una sola persona che dica la verità tutto il giorno non si fa altro che dir bugie si comincia alle 7 di mattina e si smette al tramonto così se qualche volta mi capita di mentire cercate di scusarmi dipende unicamente dal fatto di essere rimasta un po' troppo a lungo nel congo belga ma saremo amici lo stesso vero naturale esclamò tommy e all'improvviso si rese conto che quella non sarebbe stata davvero una giornata disgraziata e noiosa cosa ne pensate di venire tutti a fare colazione da me propose pippi e perché no disse tommy niente in contrario andiamoci subito sì sì subito subito esclamò annica prima di tutto devo presentarvi al signor nilson disse pippi e qui la scimmietta si levò il cappello e salutò molto educatamente così entrarono dal cancello sgangherato di villa villacolle salirono i gradini del viale fiancheggiato da vecchi alberi coperti di muschio alberi su cui ci si poteva arrampicare stupendamente finché giunsero alla villa e si trovarono nella veranda dove il cavallo stava mangiando tranquillo dell'avena da una zuppiera ma come tieni un cavallo nella veranda chiese tommy tutti i cavalli di sua conoscenza abitavano in una stalla proprio così confermò pippi pensosamente in cucina darebbe fastidio e in salotto non si trova a suo agio tommy e annica fecero una carezza al cavallo e poi entrarono nella casa che comprendeva una cucina un salotto e una stanza da letto pareva che pippi quella settimana avesse dimenticato di fare le pulizie del venerdì tommy e annica si guardarono attentamente in giro sperando che il re dei mari del sud al quale pippi aveva accennato se ne stesse seduto in qualche angolo non ne avevano mai visto uno in vita loro ma non comparendo né un papà né una mamma annica domandò leggermente inquieta abiti qui tutta sola no certo disse pippi il signor nilson nel cavallo vivono con me volevo dire non hai né mamma né papà nemmeno un pezzettino rispose pippi allegramente ma allora chi ti dice quando devi andare a letto di sera e cose simili chiese annica me lo dico da sola spiegò pippi prima con le buone e se non obbedisco me lo dico un'altra volta più severamente e se continuo a non voler obbedire allora finisce a sculacciate non si può dire che tommy e annica trovassero la cosa del tutto chiara ma pensarono che doveva essere un buon sistema intanto erano entrati in cucina e pippi cantare lo che belle fristelle impasteremo che belle frigelle friggeremo che belle frangelle mangeremo dopodiché tirò fuori tre uova e le gettò per aria un uovo le cadde in testa e si ruppe e il tuorlo le colò negli occhi macchiappò abilmente al volo gli altri due in una casseruola dove si ruppero ho sempre sentito dire che il tuorlo d'uovo fa bene ai capelli disse pippi e si asciugò gli occhi d'ora in poi cresceranno così rapidamente che li sentirete frusciare del resto in brasile tutti ma proprio tutti vanno in giro con un uovo tra i capelli questo è il motivo per il quale lì i calvi non esistono solo una volta un tipo originale invece di rompersi le uova sulla testa le mangiò naturalmente diventò calvo e quando comparve in pubblico causò un tale scompiglio che dovette intervenire la polizia parlando pippi aveva tolto molto abilmente con le dita i gusci d'uovo dalla casseruola staccò poi dalla parete dove stava appesa una spazzola da bagno e con questa si mise a frullare le uova facendone schizzare un bel po sulle pareti quel che si salvò venne versato in una padella che si trovava sul fuoco quando una frittella era ben cotta da una parte pippi la faceva saltare rivoltandola in aria e poi la riacchiappava quando era pronta la faceva volare attraverso la cucina direttamente in un piatto posto sulla tavola mangiate strillo pippi tutta eccitata mangiate prima che si raffreddino tommy e annika mangiarono e trovarono le frittelle veramente squisite poi furono invitati a passare in salotto qui c'era un solo mobile un enorme comò con un'infinità di cassettini pippi li aprì e mostrò a tommy e annika tutti i tesori che vi aveva riposto straordinare uova d'uccello strane conchiglie e meravigliose pietre graziose scatolini specchi d'argento collane di perle e tante altre cose che pippi e il suo papà avevano comperato durante i loro viaggi intorno al mondo pippi offre ognuno dei suoi compagni di gioco un regalino per ricordo a tommy un pugnale col manico di madre perla scintillante e ad annika una scatolina col coperchio formato da conchiglie rosa nella scatola c'era un anello con una pietra verde se andate a casa ora disse pippi potrete ritornare domani perché se non tornate a casa logicamente non potete ritornare e sarebbe un gran peccato tommy e annika provarono così se ne tornarono a casa passando accanto al cavallo che nel frattempo aveva terminato la sua vena e uscirono dal cancello di villa villa colle quando li vide andarsene il signor nilson sventolò il cappello il cappello